Sì, allora sono qui a far vedere il nuovo osservatorio che è arrivato, vi faccio vedere una panoramica esterna, vedete ci sono le astine per sostenere il tetto quando è aperto, comunque adesso lo andremo ad aprire, facciamo un giro intorno, andiamo ad aprire l'osservatorio con l'apposita chiave e dentro ci troviamo un cacchio, ma questo lo sapevamo perché dobbiamo ancora mettere il telescopio e tutto l'impianto elettrico. Vediamo come ci sono state messe delle maniglie apposite per tirare giù il tettuccio e dei tiranti che tengono ferma la gommina che c'è qua al centro per la pioggia e infatti con l'umidità di stanotte non è passato proprio niente. Allora, noi adesso proviamo ad aprire il tetto, quindi sblocchiamo i due tiranti, uno e due là, e tiriamo giù il tetto in questo modo, in questo ok, ci abbiamo fatto. Tiriamo giù così, e quindi uno, e dall'altra parte abbiamo l'altra parte di tetto che tiriamo giù comodamente e facciamo arrivare fino in fondo. Vediamo che l'orizzonte sfruttabile è diciamo ampio, anche perché quello che troveremo sotto questo orizzonte, comunque farebbe schifo da essere osservato. E vediamo da fuori anche l'osservatorio come si presenta adesso. Si presenta in questo modo, chiudiamo la porta, si presenta in questo modo, è quindi utilizzabile per tutte le riprese, osservazione e cosette varie. Fine.